E' evidente intanto il caos che vive l'amministrazione e il disagio che fanno provare ai cittadini. Io la richiesta di scioglimento della Giunta per il rinnovo dei nuovi assessori non la discuto perché è comunque una vicenda politica e quindi loro sono titolati a farlo. Certo discuto che dopo otto mesi questa sarebbe la terza volta che cambiano gli assessori. Detto questo noi come minoranza siamo compatti a rassegnare le nostre divisioni per ridare mandato ai cittadini perché dopo otto mesi di paralisi amministrativa e che se fosse limitata alla paralisi non sarebbe assai grave ma qui è sotto gli occhi di tutti che Ardia sta sprofondando nel degrado e non vede futuro. Quali sono appunto i motivi per cui voi dell'opposizione dite che Ardia sta sprofondando nel degrado le cose reali e non si vede il futuro? Beh intanto non c'è ancora data possibilità di approvare il bilancio, non la risposta che si dà agli operai e impiegati agli operatori in genere che non riscuotono stipendi da mesi e questo è il dato certo che Ardia non sta andando verso un futuro per la cittadinanza. Certo la gestione non è delle migliori, neanche il momento italiano è dei migliori, lo capiamo ma come lo vive Ardia lo vivono anche gli altri comuni e non mi sembra che gli altri comuni fanno vivere lo stesso disagio ai cittadini. Certo è che le amministrazioni le mandano a casa le minoranze sì ma con il sostegno della maggioranza ad oggi ci hanno fatto credere che questo poteva essere, certo è che fare il consigliere comunale serve anche un pochino di coraggio quindi anche da parte dei consiglieri di maggioranza se decidono di mandare a casa anche la loro amministrazione quello che si dice secondo me per essere uomini fino in fondo dovrebbe essere confermato.